Sì, sì, è vero, abbiamo trovato comunque un certo equilibrio, dettato comunque anche dal fatto che tutti i giocatori adesso si mettono a disposizione, anche a partire appunto dagli attaccanti. Abbiamo fatto tre buone prestazioni, appunto l'unica piccola pecca è quella del risultato negativo con l'atletico, però insomma siamo fiduciosi perché stiamo crescendo di condizione, stiamo crescendo di autostima, è quello che serve in questo momento. Noi sappiamo che abbiamo intrapreso un percorso che sarà lungo, settimanalmente abbiamo appunto queste prove, però insomma non abbiamo timore, non abbiamo paura, sappiamo che la Juve sta facendo un campionato straordinario, però insomma noi vogliamo continuare in questo nostro percorso di crescita. Credo che appunto nei loro attaccanti trovino come dire soltanto i due giocatori di spicco, però insomma se andiamo a vedere hanno delle grandi individualità anche in difesa e a centro campo. Beh sì sicuramente la squadra, come ho detto di negativo, nella partita andata c'è soltanto risultato perché credo che nel primo tempo se fossimo andati in vantaggio insomma non c'era niente da dire, quindi credo che la squadra debba ripartire appunto da quella prestazione.